Musica Quest'oggi vi narrerò la storia di Karen Ilbardo Un guerriero che voleva diventare Umbardo Che io ebbi la fortuna di avere come allievo Egli voleva cercare la strada Io non potevo insegnargliela ovviamente Perché la strada di ognuno di noi è scritta nel proprio cuore Potevo solo indirizzarlo E inizierò proprio con questa storia E inizierò proprio con questa storia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi è giunto il giorno di conoscere una persona, una persona che ti predirà il futuro. Ma ora mostrami i progressi che hai fatto. Grazie a tutti. 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 Ti ringrazio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.